Salve ragazzi, ora vi farò vedere come con pochi semplici passi potete inserirvi all'interno di un altro corso in Fidenia. Ricordate che al primo accesso voi avete scelto uno username e una password che vi serviranno per accedere sempre alla piattaforma Fidenia e per la prima iscrizione avete utilizzato un codice corso che vi è stato dato da un docente. Per poter entrare a far parte di altri corsi all'interno di Fidenia occorre innanzitutto effettuare il login con quello stesso username e la password che avete scelto la prima volta. Io adesso qui metto uno studente fittizio, uno studente prova per farvi vedere come si fa, la password e poi clicchiamo su accedi. A questo punto noi entreremo all'interno di Fidenia. Una volta che io sono entrato e mi trovo nella pagina, diciamo nella home del mio profilo di Fidenia e vado a controllare il menu a tendina della voce corsi, troverò uno dei corsi presenti all'interno di Fidenia al quale mi sono iscritto la prima volta che ho effettuato la registrazione. Ora però io voglio iscrivermi a un altro corso di cui possiedo il codice perché l'insegnante me l'ha dato. Allora cosa devo fare? Devo cliccare sulla voce in alto Entra. Qui io devo digitare il codice che la docente mi ha dato. Adesso io ne metto uno, di uno dei corsi che ho attivato, tanto per farvi vedere quale è la modalità. Poi clicco su Entra. A questo punto vedete che in alto appare la dicitura sei entrato nel gruppo. E se io vado a vedere il menu a tendina dei corsi nei quali sono iscritto, a questo punto ne avrò due. Quindi vedete che l'iscrizione di un corso diverso da quello con cui ci siamo iscritti la prima volta a Fidenia è possibile farla con pochissimi clic. È semplicissimo, quindi voi potreste essere iscritti in teoria a un numero indefinito di corsi. Di fatto noi docenti vi forniremo i codici per le varie discipline che riguardano la vostra classe e voi accederete di volta in volta ad ogni corso attraverso questo menu in alto. Quindi ogni volta che voi dovete entrare all'interno di una delle pagine dedicata a una delle discipline a cui siete iscritti non dovete fare altro che cliccare sul menu a tendina corsi qui in alto e cliccare la voce che riguarda il corso che vi interessa. Quindi in questo caso sono due classi della stessa materia perché io ho soltanto classi d'inglese però chiaramente voi avrete magari matematica, italiano, scienze, quindi varie pagine dedicate a diverse discipline. Spero che questo breve tutorial vi sia stato utile e ci vediamo presto su Fidenia. Grazie.